B4 Care Lift Evolution Professional è un trattamento creato e indicato per ridefinire e fissare i tessuti del viso e in più ha anche un effetto nutriente e idratante. È composto da due confezioni di kit Siero App & Fix Professionale. Una confezione la useremo come trattamento intensivo due o tre volte a settimana, l'altra confezione invece come trattamento di mantenimento una volta a settimana. Ogni kit contiene 5 trattamenti dati da Siero Fase 1 che è un concentrato di acido ialuronico che va a nutrire e idratare in profondità le cellule del viso e il Siero Fase 2 che va a donare uno straordinario effetto tensore. I due seri si miscelano insieme e vanno massaggiati su viso, collo e decoltè fino a completo assorbimento. Vanno utilizzati come dicevo due o tre volte a settimana come lavoro intensivo e una volta a settimana come mantenimento prima della maschera App & Fix Professionale in formato da 150 ml. La maschera App & Fix Professionale alza e fissa i tessuti donando al viso uno straordinario effetto lifting. Va tenuta in posa per circa 15-20 minuti per poi esportarla con abbondante acqua. La crema App & Fix Professionale in formato 150 ml va utilizzata dopo della maschera e ogni sera prima di andare a letto e ogni mattina in quanto è un'ottima base per il trucco e in più completa e rafforza il risultato della maschera e del Siero.